Il concerto si conclude poi con il Padre, un pezzo di invece di Padre Lusso, caratterizzato e manifesto di una strugente e profondità. E ora, le glorie, le ultime parole di Gesù Cristo, conferì sulla croce il punto di morte. Padre, Padre mio, nelle tue mani affido il mio spirito, proprio con questi ultimi indicati parole che raggiungono il diretto più sublime del lavoro vero, il calendario di Astrolos conclude il suo concerto e diavolo a fare la sua musica di sia di aiuto per entrare nello spirito negativo alla filiera che accompagnerà i prossimi giorni della Pasqua. Dirige Corrado Padre. Grazie. 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 Grazie.